Buonasera a tutti, ho il piacere e l'onore di avervi all'interno della nostra azienda dove produciamo le nostre biciclette da oltre 55 anni e con tanto orgoglio sono ben lieto di mostrarvi quello che stiamo realizzando per i nostri corridori per il prossimo centesimo Giro d'Italia Giro d'Italia per noi è una corsa importantissima dove avremo degli ottimi corridori, dei testimonial importantissimi tra questi Danilo Di Luca, Garzelli Stefano, Luca Paolini, Francesco Masciarelli, Gabriele Bosisio e Alessandro Petacchi per Alessandro Petacchi abbiamo realizzato e costruito dei tubi manufatti in carbonio in altissimo modulo per lui con questo tubo qui in H&M ci permette di realizzare un telaio costruito su misura per lui con delle caratteristiche ben definite come da lui ha richiesto, vale a dire un telaio leggero ma molto rigido e che non sia dispersivo quando lui esprime il meglio della sua potenza durante gli sprint, stiamo utilizzando come ho detto prima un carbonio in altissimo modulo a 60 ton è un telaio che ci permette di raggiungere un peso di 900 grammi e diciamo che con tutti i componenti campagnolo riusciamo a proporre una bicicletta per i nostri corridori del peso di circa 6 kg e 700 grammi siamo praticamente al limite ma non perdendo quelle che sono le caratteristiche essenziali per dei corridori nella fattispecie come Alessandro Petacchi nel dare appunto un telaio molto leggero, molto rigido e che abbia anche un ottimo rapporto con il comfort e con la dispersione dei colpi